Se stai cercando un appartamento con tre vere camere da letto, due bagni finestrati, ampia cucina abitabile, sala, balcone, garage, verde condominiale in una palazzina di sulle nove unità, beh, cosa te lo dico a fare? Rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo tra Piazza Bologna e Via Fornarina e qui si trova questo appartamento all'ultimo piano in una palazzina di sulle nove unità con ingresso su soggiorno, una cucina che definire abitabile è veramente poco, è una cucina che si vive tutti i giorni e questo balconcino dove mi trovo ora. Nel reparto notte invece si trovano due camere da letto un po' più grandi che singole, bagno finestrato con il box doccia e zona lavanderia, diciamo, sul balcone, camera matrimoniale con cabine armadio e bagno privato in camera con vasca e finestrato. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagniamo molto volentieri, ci vediamo in visita!